namaste ciao benvenuti alla seconda sessione spero vi sia piaciuto il primo video iniziamo dunque con la seconda lezione benvenuti nuovi membri benvenuti alla classe numero due oggi parleremo di più della funzionalità interiore degli organi interiori usiamo questo diagramma per illustrare il tutto diciamo che vogliamo aumentare la nostra massa muscolare abbiamo mangiato del pesce per le proteine fase 1 in ingerimento delle proteine quando il cibo entra nello stomaco siamo alla fase numero due la digestione delle proteine quando le proteine vengono convertite in aminoacidi dall'acido dello stomaco ed entrano nel intestino tenue questa è la fase numero 3 l'assorbimento degli aminoacidi quando gli aminoacidi sono già stati assorbiti passiamo alla fase numero 4 che è la trasport che il trasporto degli aminoacidi questi aminoacidi vengono trasportati dalla nostra circolazione sanguigna ed entrano negli organi negli organi vitali poi questi stessi aminoacidi vengono utilizzati dal corpo per la creazione di nuovi muscoli conoscete il detto sei quello che mangi infatti la tipologia di aminoacidi che hai ingerito sono gli esatti gli stessi esatti aminoacidi che verranno poi usati per la muscolatura quindi se usiamo i tre pilastri della salute per analizzare questo diagramma uno due tre quattro numero uno cade sotto il pilastro della nutrizione numero due cade sotto il pilastro della funzionalità degli organi numero tre funzionalità degli organi numero quattro anche funzionalità degli organi costruire massa muscolare anche funzionalità degli organi quindi qual è più importante per per noi tutti per migliorare la salute concentrarsi sul miglioramento della nutrizione oppure concentrarsi sulla miglioramento della funzionalità degli organi per rendere ancora più chiaro l'importanza della funzionalità degli organi diamo un'occhiata a delle malattie molto comuni primo tante persone hanno queste sensazioni di bruciore hanno molto acido intestinale quindi hanno riflusso acido oppure si sentono molto gonfi o magari conoscete persone che hanno problemi di diarrea mangiano qualcosa di sbagliato immediatamente devono andare in bagno oppure conoscete persone che magari mangiano cibo ottimo però tribolano a guadagnare peso è un problema di assorbimento o magari ci sono persone che hanno problemi danni vascolari come dei blocchi ad esempio nell'arteria nelle veni oppure conoscete persone che perdono muscolatura magari una parte del corpo alla muscolatura normale e l'altra parte invece a perdere muscoli cos'è più importante nutrizione oppure la funzionalità degli organi se vuoi veramente prendere in mano la salute degli organi la cosa più importante è la digestione perché potresti avere un assorbimento fantastico potresti avere un sistema di trasporto ottimo però se non digerisci bene tutte queste cose non sono sono irrilevanti non dico che la nutrizione non sia importante è assolutamente importante però nel contesto di quello che stiamo discutendo adesso non è qualcosa di cruciale dobbiamo invece preoccuparci della funzionalità dei nostri organi interiori e questo è questo è un ambito dove la life wave brilla utilizzando la tecnologia della fotobiomodulazione e l'attivazione delle cellule staminali per riparare la funzionalità dei nostri organi se gli organi riescono a funzionare meglio e cioè in uno stato più giovane automaticamente avremo più energia e automaticamente avremo un aspetto più giovani quindi cerchiamo di appunto aumentare usare questa tecnologia per aumentare la funzionalità dei nostri organi nella prossima lezione parleremo di come riparare o addirittura invertire l'invecchiamento degli organi interi ci vediamo nella prossima sessione grazie della visione spero vi sia piaciuto avanti alla prossima lezione se avete visto questo video e siete pronti per la prossima lezione fatemi un cenno e ve lo mando subito